Che Dio benedica tutte quante voi! Ale! Che Dio benedica tutte quante voi! Mi hanno chiesto di accompagnarle in macchina quando ho tempo. Perché non prendono un taxi? Chi rapirebbe mai quelle vecchiacce? Mi hai portato altre sigarette? Le hai già finite quelle che ti ho dato. Ancora no, ma sai qui... Secondo me, Pituca non ha più intenzione di muoversi in taxi. Non darle retta. Pensi che... Lei sospetti che io sia qui. Lo sai che non dovresti guidare. Non hai neanche la patente. Pensa se avessi un incidente. Pensa se investissi qualcuno e quello morisse. Io esco e tu entri. Che cosa hai da guardare? Un abbraccio a quello che dico! Sì, abbraccio a quello che dico! E questo non gliel'ho mai perdonato. Non avrebbe dovuto portarla a ballare. Salve. Bisogna dire che non è stato delicato. E lei non ha detto una parola. Salve ragazze. Ciao. Chi vince? Io, Pituca. Io vinco io. Pituca, è lei la signora che guida? Sì. Potrebbe darmi un passaggio qui vicino? Ah, questo devi chiederlo a lei. Con permesso. Stavo dicendo che Eleonora non ha detto niente. Bisogna dire che è stata molto forte. Ciao. Dipende del mio sacro. Scusami, potresti darmi un passaggio qui vicino? Non so che cosa avrei fatto. Sì, sì, certo. Però è sempre difficile utilizzare tutto ciò che si può stare. Andiamo? Evidentemente era davvero stanca della situazione. Sì, anche lui era stanco. Ormai non è vero. Era una situazione che si riusciva da tutto. Sì, anche lui era un passaggio che si riusciva da tutto.